Ho ricevuto delle domande su qual è la mia opinione su questo momento così particolare allora ho deciso di rispondere in un vocale che è più semplice e così più accessibile allora io penso che in realtà ci siano diciamo degli equilibri molto più ampi di quello che è la votazione in italia perché siamo tutti collegati con le superpotenze da una parte c'è l'america dall'altra c'è la russia la cina l'iran in questo momento e quindi di fatto ci sono degli equilibri molto molto fragili perché ovviamente l'italia diciamo che può essere considerata una pseudo colonia americana abbiamo tante basi nato siamo collegati all'america però l'italia ha aperto anche dei dialoghi con la cina quindi la via della seta e tutto quello che riguarda anche il fattore diciamo covip di conseguenza si trova in mezzo a due fuochi e chiaramente il nostro presidente della repubblica mattarella quello che è stato fino ad oggi secondo me aveva un ruolo marginale tutto sommato perché comunque insomma si vede che è una persona che hanno fisognomica come dire non mondo è tutto presente come dire no quindi di fatto è stato un po manovrato ha abbozzato ecco insomma in realtà la decisione in questo momento è difficile perché all'origine c'è proprio la domanda quella sintetica no america russia quindi biden con la prova le ultime prove di instaurazione del nuovo ordine mondiale oppure putin che comunque dal punto di vista energetico ci fornisce il gas fornisce a tutta europa in realtà questa guerra in ucraina secondo me è un mezzo utilizzato dall'america per spostare l'attenzione da quello che è stato il fallimento della campagna vaccinale è chiaramente dovuto alle conseguenze che un'azione scellerata ha creato a livello mondiale quindi la sperimentazione sugli esseri umani non ha dato come dire i risultati che loro cercavano e quindi ha creato delle dissonanze la gente ha cominciato a stare male ci sono degli effetti che non sono potuti essere diciamo studiati cioè non sono c'è stato il tempo materiale per studiare questo tipo di terapia genica quindi hanno fatto un esperimento non sapendo quali possono essere le conseguenze questo è sfuggito di mano sta sfuggendo di mano sta come dicevamo nel video nell'audio precedente la polvere sta uscendo dal tappeto e quindi non possiamo tappare tante falle non è una barca quando ci sono troppe falle a un certo punto resiste finché non va a fondo quindi di fatto l'italia in mezzo a due fuochi o da una parte quindi affiancandosi alleandosi alla tentativo del nuovo ordine mondiale di creare appunto una civiltà orwelliana di controllo dall'altra chiaramente avere contro delle superpotenze come russia cina e iran qui l'italia non sa da che parte stare ed è per questo secondo me che probabilmente si ripeterà la presidenza di mattarella perché è un presidente che fino ad ora è stato gestibile e quindi alla mala parata meglio quello che qualcos'altro secondo me draghi non salirà posso sbagliarmi però la sensazione è che non sia proprio ben voluto ecco per vari meccanismi quindi di fatto non dovrebbero rischiare di come dire mettere ancora carne al fuoco perché gli effetti delle cause stanno facendo arrabbiare la gente quindi la gente comincia a rendersi conto di questo inganno che avrà delle conseguenze purtroppo le sta già avendo e quindi quando comincia a vedere bambini che muoiono di miocardite o di attacco di cuore comincia a farti delle domande non si può più nascondere questa realtà per cui siamo in un momento di decisione ma io credo che non siano non saranno così folli da cominciare una guerra mondiale perché questa volta non sarà combattuta con i cannoni ma sarà combattuta con un pulsante e con una guerra atomica se l'essere umano dovesse essere così scellerato da schiacciare quel pulsante allora interverranno queste coscienze superiori che sono popolazioni di altro mondo gli altri mondi vorrei dire che intervengono con tecnologie ovviamente più avanzate delle nostre per bloccare tutto quello che sarebbe un'autodistruzione inutile creata da esseri che sono in una tridimensionalità e che non hanno contatto con il senso dell'assoluto della vita della diritto alla vita della bellezza dell'armonia dell'amore della compassione e quindi interverranno interverranno perché non è legge universale il poter castrare diciamo così il poter schiacciare una mente una anima una un'entità in evoluzione che possa decidere nel suo percorso animico universale di poter procedere di poter fermarsi di poter anche retrocedere però libero nella possibilità di fare questo quindi la compressione dell'anima regge fino a un certo punto perché viene comunque resettata a un certo punto viene resettata questo non dobbiamo mai perderlo di vista questo concetto perché in realtà ci eleva per una visione più allargata una visione che possa renderci coscienti del percorso che stiamo facendo dobbiamo evitare di vivere come automi trascinati da questa corrente malvagia diciamo così o comunque non costruttiva che ci sbatte di qua e di là emotivamente siamo in un furlatore e quindi c'è difficile mantenere l'equilibrio per mantenere l'equilibrio bisogna continuamente fermarsi nel momento in cui ci sentiamo persi respirare sentire che esistiamo attraverso il respiro è proprio un'azione meccanica non dobbiamo andare a cercare discorsi spirituali in questo momento intendo dobbiamo essere nella nell'onda spirituale ma applicare ogni momento qualcosa di materiale quindi in questo caso un metodo vero e proprio che ci chiede solo lo sforzo di fermarci e di volerlo fare quindi di fermarsi respirare profondamente sentire i propri piedi per terra su madre terra e accorgerci che in quel momento siamo lì in quel momento siamo fermi dentro noi stessi abbiamo ritirato tutte le nostre emanazioni siamo lì respiriamo e ascoltiamo quello che siamo in quel momento si apre come una voragine e questa voragine è il motivo per cui le persone tendono a fuggire da questa sensazione non sapendo che la voragine è una percezione immediata che però poi porta a un cammino dentro noi stessi e più abbiamo il coraggio di affrontare questo questo cammino e questa voragine diciamo apparente e più ci sentiamo forti ci sentiamo forti perché abbiamo il coraggio di andare dentro noi stessi ad affrontare le nostre paure ad affrontare anche le nostre ombre ad affrontare l'incapacità chiara perché la riconosciamo di essere la parte migliore di noi stessi la vita dell'uomo si esprime per riuscire a portare a compimento il senso della come dire della dell'osservazione mirata di quello che siamo e dello sforzo per creare il cambiamento il nostro limite più grande è la paura ma non la paura in se stessa ma la proiezione che noi diamo della paura i nostri demoni si rispecchiano nella paura quindi sono quelle cose a cui siamo legati la paura di ad esempio rimanere senza soldi la paura di non avere da mangiare tutte paure che creano degli stati emotivi così forti che non riusciamo più a vedere lucidamente la situazione in cui siamo e quindi ci adattiamo non vedendo altra via di uscita che andare incontro a quello che apparentemente ci toglie da queste paure questo è il meccanismo dell'emozione non gestita noi abbiamo un emotività tutti anche i quelli peggiori abbiamo un emotività che viene destabilizzata da tantissime cose in una giornata l'emotività è la capacità di sentire emozioni e l'emozione può essere di due tipi l'emozione costruttiva che è quella che spinge l'essere umano a confrontarsi col mondo quella che ti fa sentire quella che ti fa amare la compassione tutto quello che è una spinta costruttiva creativa per quello che ci viene incontro e che ci crea l'emozione poi c'è invece l'emozione distruttiva quella non costruttiva quella che ci debilita come esseri umani perché ci sbatte di qua e di là è dissonante e quindi crea situazioni di dissonanza e crea l'ubriaco che sbatte di qua di là in in base a quello che gli arriva come stimolo dall'esterno e quindi diventa deflagratoria viviamo senza respiro camminando e sbattendo di qua e di là a seconda dello stimolo che ci arriva da fuori il modo per riuscire a decidere da che parte stare è proprio per decreto quello che noi siamo perché noi siamo anime alla ricerca della perfezione e dobbiamo passare in questa dimensione terrestre attraverso la gestione delle emozioni tutto questo ci stabilizza però lo sforzo lo dobbiamo fare a questo punto della storia dobbiamo essere quello che pensiamo significa dobbiamo dare manforte a questo sentore di risveglio sta avvenendo che include l'accorgersi assolutamente accorgersi di quello che è dissonante intorno a noi di quello che non corrisponde alle leggi etiche fare la scelta tra quello che è la comodità e quello che è la coerenza e accettarne anche le conseguenze perché questo è il prezzo che il guerriero della luce deve pagare in un mondo in cui prevale la materia privilegiando lo spirito ovviamente vieni depredato della materia in questo in questo mondo ma questo mondo ha finito di essere perché ci sono delle concause dal punto di vista anche geofisico universale di frequenza di vibrazione di interazione tra un sistema e l'altro anche a livello astronomico che stanno portando a una transazione di fase che ovviamente non esclude dei terremoti così durante il percorso come non le esclude dal movimento di gaia della terra che è viva e vibra alla nostra frequenza quindi quello che dobbiamo aspettarci è un travaglio siamo in travaglio però quello che ci aspetta è qualche cosa di nuovo qualche cosa di nuovo proprio a livello di percezione a livello di interazione con altri sistemi quindi con mondi che appartengono a vibrazioni più alte e che fino ad ora ci sono stati sconosciuti ma entrando in quella vibrazione più alta cominciamo ad averne coscienza cominciamo per leggi fisiche se non altro a intravederli a vederli quindi la nostra dimensione si apre a nuove possibilità che non sono concepite dalla mente umana perché la mente umana è abituata a vivere e a considerare solamente ciò che vede tutto ciò che fa parte di percezioni più evolute le ritiene fantasia follia ma questo è una visione prettamente materiale quindi di persone che non riescono a vedere oltre quindi guardano quello che vedono e questa cosa si è notata in questi due ultimi anni no quindi ecco per cui il momento richiede presenza è faticoso perché c'è un'atmosfera come dire ondeggiante come essere su una barca senza timone però utilizzando il respiro e il fermo proprio riusciamo a rientrare livello energetico perché è questa la visione che dovremmo avere da adesso in poi accadranno dei piccoli miracoli nella peggiore delle ipotesi interverranno delle forze che creeranno un reset e questo sarà il grande miracolo quindi sintonizzatevi su questo tipo di frequenza non sulla paura ancora una volta perché la paura la potranno creare in qualsiasi modo prima era il covide poi era la guerra poi sarà qualcos'altro e quindi l'invasione ufo degli ufo cattivi qualsiasi cosa possa portarci fuori centro quindi rientriamo in noi stessi e chiediamoci qual è il mondo che vorremmo immaginiamolo e mettiamoci in ascolto perché è questo che dall'alto vedono la lucina che si accende dentro di noi siamo in grado di far accendere la lucina basta questo come va sono bastati i tre giorni dell'om della preghiera all'assoluto che sono stati una riunione della forza lavoro che ha sentito in quel momento la voglia di unirsi con altre anime e di mandare una preghiera al cielo ed è stato un grande miracolo perché mai si potesse si sarebbe potuto pensare in così poco tempo di creare un unione così straordinaria quindi miracoli avvengono e vengono riconosciuti dalle anime che sono in grado di farlo di là delle parole dirà degli atteggiamenti a di là delle delle maschere quindi adesso andiamo al dunque ecco parlato abbastanza scegliamo di accendere la lucina perché sarà questa la nostra ulteriore forza perché adesso si dovrà prendere una posizione netta perché ci appariranno gli inganni ci appariranno veramente le realtà di effetto ma ci appariranno anche mondi che vengono in nostro soccorso perché questa è la vita il senso della vita siamo in connessione con tutto e quindi quando serve il tutto interviene buona giornata